In un palazzo del governo assediato dalle tv e dai manifestanti, Saad Hariri annuncia quello che aveva promesso, l'approvazione di un pacchetto di riforme per fronteggiare la crisi economica. Ma in grande difficoltà, dopo cinque giorni di proteste, il Premier riconosce che non si tratta delle misure che i manifestanti chiedevano e tende quindi una mano alla piazza assicurando che il governo difenderà le rivendicazioni pacifiche. Tutto era cominciato giovedì scorso con la cosiddetta tassa su WhatsApp, 6 dollari al mese che il governo voleva imporre sui servizi di messaggistica e chiamate via internet. In un paese in cui i costi delle compagnie telefoniche sono altissimi è stata la scintilla che ha scatenato l'incendio. Migliaia di persone sono scese in piazza e per la prima volta dopo anni si sono ritrovati fianco a fianco musulmani e cristiani maroniti, sunniti e sciiti, tutti a chiedere le dimissioni del governo di unità nazionale, accusato del dissesto economico del paese e della corruzione dilagante. Hariri aveva imposto un ultimatum di cinque giorni al suo stesso governo per approvare riforme senza nuove tasse. Oggi l'ultimatum è scaduto, le riforme sono state approvate, ma la protesta, come spiega questa donna, andrà avanti perché ormai l'unica via d'uscita sono le dimissioni del governo e nuove elezioni. Si mantiene molto alta la tensione in Cile dove oggi è stata data alle fiamme l'anagrafe di una località vicina a Santiago. Intanto è salito a 11, il numero ufficiale dei morti per le proteste esplose per l'aumento del prezzo del biglietto della metropolitana, il ventesimo in 12 anni che colpisce soprattutto i più poveri, alle prese con un aumento del costo della vita del 150% in 10 anni. Siamo in guerra, ha dichiarato il presidente Sebastián Piñera, giustificando lo stato d'emergenza e il coprifuoco nella capitale Santiago. Sono 152 le persone arrestate per saccheggi e aggressioni, sono fermi i mezzi pubblici e sospesi i voli. Alla rabbia dei manifestanti si oppone però chi è sceso in strada per ripulire le stazioni della metropolitana devastate. Si può protestare, sostiene questa donna, ma nemmeno durante il conflitto con Pinochet abbiamo fatto toccare la metropolitana perché sapevamo, aggiunge, che la metropolitana era per noi. In Cile lo stato di emergenza era stato proclamato l'ultima volta proprio ai tempi della dittatura di Pinochet nel 1987. Le violenze, i saccheggi e le devastazioni sono stati condannati anche dalla conferenza episcopale cilena che chiede però di comprendere il malessere delle famiglie colpite da diseguaglianze ingiuste.